Amici di Marcosbox, ben ritrovati nella rubrica 4 chiacchie all'interno del mondo open source. Questo è un piccolo video per dire la mia sull'annoso problema, per alcuni, delle derivate dei fork. Alcuni si sentono in diritto di criticare qualsiasi fork, qualsiasi derivata, qualsiasi espressione della libertà da parte dell'utente. Dell'utente programmatore, in questo caso, cioè quell'utente che sa mettere mani al codice e sa come poter creare qualcosa. Noi, i looker, che utilizziamo semplicemente le distribuzioni ai programmi. Dicevo, ci sono alcuni utenti che si sentono in diritto di poter criticare a spada tratta qualsiasi tipo di fork, qualsiasi tipo di derivata. È il nome dell'esistenza di quelle 3-4 derivate, di quelle 3-4 distribuzioni perfette, tutto il resto fa schifo. Tutto quello che fanno questi programmatori è cacca, è un danno, un cancro al mondo GNU-Linux. Però a queste persone gli sfugge una cosa molto importante. Il mondo GNU-Linux si basa sulla libertà, la libertà dei programmatori di fare quel cazzo che gli pare piace, di svegliarsi la mattina, di inventarsi il player audio, l'ennesimo player audio, di fare la propria distribuzione cambiando dei pacchetti. È una libertà, una libertà che è concessa, perché il codice è disponibile a tutti. Io mi faccio la mia implementazione e la distribuisco. Se ti piace, te resta lì. Se non ti piace, sono cazzi tuoi, cioè non è culpa mia. Non vedo dove ti vado a nuocere in queste cose. Poi parliamo di derivate. Alcune distribuzioni importanti che sono tuttora disponibili, e di cui la comunità si freggia, perché hanno portato visibilità al mondo Linux, sono distribuzioni che nascono come derivate. Basti pensare a Ubuntu. Ubuntu nasce come derivate di Lebian, nasce con l'obiettivo di fornire un'installazione facile e quant'altro. C'è riuscita, sta continuando su questa strada. Mint, Mint nasce come derivate di una derivata. Anche in questo caso Mint nasce con il desiderio di offrire qualcosa in più rispetto a Ubuntu. C'è riuscita, Mint è apprezzata. Personalmente nell'ultimo periodo la sto criticando perché ci sono alcuni problemi con l'interfaccia utente, alcuni bug e cose del genere, ma comunque è una distro che è molto apprezzata perché è facile la installi a qualunque persona se la sa mantenere, se la tiene per il periodo di mantenimento della distro, non si lamenta, non si lamenta perché non trova bug, la utilizza. Quindi è ottima per gli utenti alle prime armi. Molti si sentono anche, per esempio, il diritto di criticare Cinnamon, Cinnamon inter-dextrop environment sviluppato da Linux Mint. È un dextrop environment che va, come fork, a prendere una fetta di utenza che era stata lasciata scoperta dal team GNOME, che non ha più voluto rilasciare una versione di GNOME con un'interfaccia, diciamo, così classica. Benvenga, benvenga Cinnamon, benvenga Mint, benvenga Ubuntu, benvenga anche l'implementazione del miglia e miglia player audio perché è il mondo GNU Linux, è il mondo della libertà, è il mondo del programmatore che può fare quel cazzo che gli pare, basta che rilascia il codice. Perché ogni volta ci dobbiamo incaponire sulle derivate, sul tempo perso delle distribuzioni? Uno le fa, le fa nel suo tempo libro. Magari inizia con l'implementare per gioco, per scherzo, un programma o una qualche cosa, e poi magari questo evolve. Oppure magari diventa più pratico nella programmazione e inizia a contribuire da detti progetti. Perché dobbiamo mettere paletti? Non lo capisco, sinceramente. Non capisco questa cosa. È vero, è vero che alcune critiche possono essere fatte per quanto riguarda quelle distribuzioni che cambiano solamente il tema di icone e cose del genere. Ma quelle possono essere fatte soltanto a modi così, ci piace, la facciamo, la critica. Ma non possiamo entrare dicendo che è un cancro e cose del genere. Perché Imo è sbagliato. Voi come la pensate? Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ciao ciao!